Musica 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 Ciao E allora, Fredy? Ma tanto abbiamo fatto centriolo e marcento Vedi e vuoi dire? Assaggia Vedi com'è? Eh ma lo raccontato per voi Eh? No, no, c'ho l'altro No, no, no Non assaggiare Non ci com'è? Come ti mangia così? E questo è incendiario e marcento Non lo so come viene Ma che fa? Com'è? Com'è? Si è venuta in mente nuova Ma che è? Ah no, ci aveva un cittadino Grazie Com'è? No, una birra la vuoi? Grazie Come avessi accettato Ma hai un momento Prima Prima tocchi quello che devi fare E qua sto a riprendere No, no, no Poi prendi il balzaccio con le mani E poi gli dai il tovagliolo Ma doffa E ci metti qualsiasi gusto Quello che vuoi Uno te lo chiede E cosa le vuole Al gelataro Ci ho messo una cassata siciliana Sì Allora, una cassata Oì, che ci vuoi tu? Ci mettiamo la maniglia Sì E' quella che hai messo per noi Ah Ok Allora, una cassata Oì, che ci vuoi tu? Ci mettiamo la maniglia Sì No 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 E E